Ciao, fratellino. Matti, cosa? Credi di essere il solo che può ammettere paura? Facendo il pazzo, potrai incantare mia madre, ma non me. Sappi che ti spezzerò. Perché io arrivo alle persone cattive. L'ho fatto con Clifford Blossom, l'ho fatto con Sugarman, l'ho fatto con Black Hood. E sai cosa hanno tutti in comune? Sono morti. Considerati avvertito.